Perdurando questo stato di disagio e soprattutto di malessere da parte di tutto il personale che dovrà restare nel mese di agosto a operare in questa struttura infernale, infernale, noi come sindacato e io in prima persona mi adopererò ad attivare tutti gli strumenti che sono in mio possesso sindacalmente parlando per cercare di alleviare questa situazione di grandissimo disagio.